Siamo quindi arrivati alla conclusione della Lazzaroni Cup 2023, una finale dominata da Marcello Serafini che se l'è aggiudicata sul riminese Manuel Mazza per 6-0-6-1. Una settimana intensa, lunghissima, con giorni di pioggia, però è filato tutto bene, splendido torneo, finale con tantissimo pubblico, molti gli italiani in gioco durante la settimana e ieri c'è stata per noi abruzzesi la ciliegina sulla torta della vittoria nel doppio dell'Aquilano Andrà Picchione con Rosetano Giorgio Ricca. L'augurio è che l'anno prossimo il torneo possa essere più importante per il Price Money portandolo da 15.000 a 25.000 dollari e quindi l'obiettivo è già quello del 2024, giugno 2024, per una Lazzaroni Cup ancora più bella e più importante.